E' lotta agli incivili che sversano rifiuti abusivamente. A Benevento l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di igiene, dichiara guerra all'odioso fenomeno, lavorando quotidianamente con l'ausilio delle immagini e delle telecamere di videosorveglianza per cogliere sul fatto i criminali dell'ambiente contro i quali scende in campo anche il comune. La lotta all'inciviltà va come presupposto, come impegno assoluto. Le persone che fanno queste cose, che sversano in questo modo incivile barbaro, devono essere adeguatamente punite. Che poi non parliamo di semplice inquinamento, non possiamo mai sapere cosa lasciano per strada in modo indiscriminato. E naturalmente, contestualmente, devo fare i complimenti all'Asia per quanto sta mettendo in campo in relazione a questa battaglia dura e una battaglia davvero ferale per l'ambiente. E l'assessore Alverde sensibilizza poi i cittadini ad una maggiore collaborazione per garantire pulizia e vivibilità della città. L'amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità, ma anche i cittadini devono fare il loro passo ultronio. Nei pressi di una scuola c'erano qualcosa, buttate come 400-500 bottiglie di vetro, scatoli di pizze e tutta una serie di schifezze che davvero non possono essere giustificate. Collaborando, la città migliora.